Amara battuta d'arresto per il bitonto, che tonfa male sul prato bitorzoluto del Nunzio Fittipaldi. Il vengher di Puglia, quel galantuomo che risponde al nome di Ran Colazic, ordisce una tela che imbriglia le oncelli, capaci di ruggire solo a fiammate. Mister Nicola Ragno schiera i suoi secondo la formazione tipo, con Sirri petta a muro difensivo, con qualche crepa per la verità, il play capece col piccolo gladiatore ubiquo Mariani in mezzo, Piarulli ad arare l'outmanco, il giocoliere Taurino alle spalle di Lattanzi e Pozzebon. Il collega suo compagno di corso a Coverciano si blinda con Galdian e Cabrera, Pagano e Navas ad illuminare la manovra, il sontuoso Nolè di supporto ai Vespigni, Cappiello e Morleo. Minuto 3, spiove una palla sporca nell'area ospite, il nuovo Lucano controlla e calibra un destro che si infrange sul palo. Quattro primi dopo, palli da reazione neroverde, Taurino si destreggia bene, botta pretenziosa da lontano, fuori. Al dodicesimo, dalla tre quarti di sinistra, punizione perfida di Triarico, che incoccia sul montante sinistro. A cinque dalla mezza, Mancino di Sirri da distanza siderale, che manca il bersaglio. Sessanta secondi dopo, penetra da destra Nolè e guanti miracolosi di Figliolo. È il trentatreesimo, quando Pozzebon si esibisce per la platea quasi deserta per il Covid, in una rovesciata. Gesto estetico bello, ma poco efficace. Blocca facile il goalkeeper rosso-blu. Minuto 38, Navas suimbucata di Nolè scaglia la sfera fra i pini. Figliolo allo trebbia però, rigore. Prodigioso il porterino bitontino e penalti parato a Nolè. Allo scadere, vantaggio sinico. Percussione di Cappiello sempre sul fianco fragile di Neroverdi e assist lucente per Navas, che infila imparabilmente Figliolo. Si riparte con i bitontini che sfoggiano Piglio Belluino, mentre i lucani si difendono un po' tremebondi ed è un vorticar di capovolgimenti di fronte. All'ottavo il pareggio dei Leoncelli. Taurino trotterella funambolico sulla fascia mancina e dipinge un destro fatato a giro che impietra l'estremo di casa. Quando il bitonto sembra ormai padrone del campo, torna invece in vantaggio la formazione rosso-blu. Piazzato di Nolè da quasi metà campo, stacco imperioso di Dopud dal limite e cuoio nell'angolo alto di Figliolo. 2-1. Ultima emozione in pieno recupero. Rosso eccessivo da parte del signor Silvestri di Roma per neoentrato Pepe, per un tecle scivolato e nulla più.